Hanno potuto fare un mini corso di vela, hanno fatto gare fra i vari licei sportivi di calcio, beach volley, tennis, nuoto, pallannuoto e basket e tiro con l'arco dove peraltro abbiamo anche brillato in maniera eccellente direi. E' stata un'esperienza che ha coinvolto oltre 500 ragazzi provenienti da tutta Italia in un campus organizzato proprio a Lido di Ravenna dove si sono svolti tutti questi tornei, hanno fatto un'esperienza di grande amicizia, sono nati anche dei piccoli amori. Certo la scuola ha messo in campo uno sforzo organizzativo enorme ma il risultato e la gioia dei ragazzi che sono appena rientrati ripaga dei grandi sforzi che ogni giorno mettiamo in campo per il liceo sportivo che sta diventando sempre di più un fiore all'occhiello di questa istituzione scolastica. E' stata una bella esperienza perché comunque abbiamo fatto molti sport, ci siamo confrontati con altre scuole e quindi è stata una bella esperienza. Come vi siete trovati? Ci siamo trovati bene anche perché comunque sia la scuola ci ha sempre preparato tutti i sport che abbiamo affrontato in gita, sempre la pallavolo, il basket, poi abbiamo affrontato nuovi sport che non avevamo mai provato come per esempio l'esperienza sulla barcavela. A Gubbio non è facilissimo insomma. E' stata molto bella anche perché nessuno di noi aveva mai provato a salire su una barca e comunque sia ci siamo molto divertiti soprattutto con questa esperienza della barca e anche con un'altra esperienza che è l'Orienteering che comunque sia qui avevamo provato solo che lì era molto più in grande in un parco molto, cioè sul lito delle Nazioni che comunque sia era un parco molto grande e ci siamo molto più divertiti che rispetto che farlo qua a Gubbio.